Hey, lo sapevi che puoi supportarmi gratuitamente come creatore? Ti basterà inserire nell'item shop di Fortnite il nickname KinoTV e ogni tuo futuro acquisto supporterà anche me! Ue ue ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Kino e oggi andremo a vedere insieme la morte tascabile al 130 full perk abbiamo visto un sacco di pistole su questo canale molte pistole le abbiamo riciclate perché non ci piacevano oggi sono molto curioso di questa morte tascabile premetto che sappiamo già tutti com'è il suo utilizzo come funziona più o meno ovvero che spara tipo dei proiettili che sono esplosivi e poi anche telecomandare infatti se leggete sotto la descrizione dice pistola speciale, spara razzi in miniatura che possono essere controllati in volo e che feriscono e respingono i nemici in un raggio di medie dimensioni al momento dell'impatto io sono davvero davvero molto curioso di vedere quale sarà la sua vera potenza perché ricordiamo che non sappiamo mai com'è un'arma finché non la proviamo a livelli massimi solo lì possiamo capire l'effetto veramente dell'arma solo lì possiamo vedere le sue massime potenzialità vedere fino a che punto si può spingere e abbinarlo in questo caso a un set di eroi in questo caso è una pistola quindi andremo a fargli la build con lo straniero e con le pistole io non perderò tanto tempo in questo video per farvi vedere la build se siete interessati a vederla andate a vedere il video che avevo fatto in precedenza perché sennò viene un video veramente veramente lungo arma al 130 procediamo con le perk come ben sapete io porto prima tutto oro e dopo gliele cambio perché tanto non abbiamo problemi di risorse 48.000 chiavi inglesi 17.000 stravantaggi leggendari l'unica cosa sono gli epici che purtroppo stanno mettendo poche missioni con gli stravantaggi epici me ne servirebbero un po' di più eh allora casa danni da tormento quindi andiamo a mettere danni e bersagli colpiti da tormento poi abbiamo un livello critico qui velocità di ricarica va benissimo direi che la durevolezza non gliela metto e li andiamo a mettere quindi danni critici quindi il danno per secondo ecco infatti è diminuito ma non preoccupatevi perché il danno critico sarà molto molto più elevato io direi che la lascio anche in elemento fisico per ora poi vediamo magari durante il video mi prende il matto e la porto energia per ora la tengo fisica ma l'ultimo passo da fare è la build di eroi ecco raga velocissimamente questa è la build che andrò a utilizzare esplosione fasica colpo della cintola incrementa danni delle pistole 6 colpi poi cannone fasico lampo di gloria e sfasamento fasico potremmo provare molte altre combinazioni ovvero al posto di sfasamento fasico per esempio ogni 6 eliminazioni con arma a distanza attiva un'esplosione che infligge 37 danni base in un raggio di una unità però questa perk è particolare dovrei prima vedere un attimo come funziona senza la morte tascabile e poi provarla anche con la morte tascabile per evitare tutto questo io mi aumento lo sfasamento fasico così abbiamo lo straniero più o meno che utilizzerei anche se probabilmente ci metterei una perk sul teddy però vabbè in questo video voglio farlo così voglio farlo così andiamo subito in missione a provare 3, 2, 1, via eccola qui raga al 130 per craftarla servono 13 di quarzo 30 di spago una cella 8 di raggio quindi non 11 e 15 batterie usa celle d'energia come potete ben vedere e io direi di provarla subito ok squagliati tutti provo a comandargli il colpo direttamente lì a loro però è figa eh molto bella peccato che consuma 8 colpi ogni volta che sparo e se non gli entra critico non è che faccia malissimo 280.000 di danno se gli entra critico mi sto facendo seguire da un mucchietto voglio provare a farmeli tutti con un colpo eh la maggior parte va diciamo che potrebbe essere davvero un'alternativa cioè molto comunque più economica per il lanciarazzi no? economica ma neanche tanto perché alla fine ogni colpo sprechiamo 8 celle d'energia però se ci avete fatto caso ormai craftare le celle d'energia a parte la pancetta non servono più le erbe fibrose serve una batteria uno di pancetta un barile e addirittura 5 viti quindi anche le celle d'energia sono molto molto più economiche cioè è solo il bacon alla fine che ci troveremo un po' senza quindi vi consiglio di aprire più quante più scatolette possibili e godervi un po' queste armi che finalmente possiamo madonna tre critici li sono entrati lì e io ve lo faccio cadere qua al colpo ti seguo ricordiamo che il colpo è veramente manovrabile io posso fargli fare quello che voglio e li ho presi raga giù mamma mia bellissimo voglio prendermi pure quello lì da solo uh l'ho preso l'ho preso ed è morto che mira potete fare qualsiasi giochetto bellissima non mi sono per niente pentito di averla portata su questa pistolina anzi credo che me la terrò perché se un'arma non mi piace ok ci faccio il video ma poi la reciclo mi ripiglio le risorse però questa penso proprio di tenermela penso proprio di tenermela peccato che questo smasher sia d'acqua bellissimo però ho trovato un'altra arma da usare con lo straniero potevo portarla su qualche mese fa eh sinceramente a me piace sparare contro i mostri della nebbia mirare in testa è cioè non è difficile però capite il colpo va comunque se vi spostate un pelo eccetera eccetera il colpo cambia direzione quindi è semplice ma non è semplice allo stesso punto altro smasher d'acqua quattro colpi quattro colpi di sta pistolina e ricordo che sono da solo in missione non ho l'incremento di compagni anzi che dite andiamo a vedere con i compagni in una missione al 100 quanto riusciamo a fare di danno con sta pistola perché ormai è diventato un must allora raga ora sono con i compagni vedo già dei mostri della nebbia one shottato non one shottato ma quasi vabbè il mucchietto si fa fuori easy sapete è soddisfacente farsi seguire dal mucchietto e poi bam con un colpo stupendo un colpo in realtà sono 8 quindi non allarmiamoci troppo dai eccolo che dorme lo smasher non gli ha fatto nulla sto colpo oh e questo l'ha one shottato non ho visto il danno che gli ha fatto spettacolare poi posso arrivargli anche dietro col colpo a quelli col col frigorifero in mano per capirci no gli accampamenti li posso fare dalla distanza vieni vieni vabbè usiamo anche il teddy perché tanto lo straniero ce lo mette a disposizione i mostri la nebbia si sono scogliati questo pure addio che figata ok raga zombie al 118 non so quanto sia utile contro questi però almeno colpiamo in mucchio molto comoda per le streghe devo dire non devo più avvicinarmi fino a loro peccato che non ci siano smasher però davvero comoda in missione quando buscano tutti sti piccoletti mamma è una meraviglia facciamo che l'epico specchio riflesso glielo lascio ai miei compagni magari in piedi ottimo ragazzi ottimo comunque il danno coi compagni è salito a 419.000 danno per secondo raga cioè facciamo un paragone un attimo avete notato no? dov'è lo schioppo al 130? 128.000 per farvi un esempio 419.000 per secondo com'è possibile sta cosa? dunque ragazzi questo era il video sulla morte tascabile e considerazioni finali sull'arma è un'ottima arma secondo me per sfasciare tutti i piccoletti alternativamente al lanciarazzi ogni tanto ci sta per lo straniero è perfetta io sono molto molto contento di averla portata su l'unica cosa che magari sarebbe stato meglio portarla in danni non lo so proveremo in futuro per il momento io vi invito solamente a lasciare un like a questo video di lasciarmi solo un commentino ed iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti perché porteremo sempre novità su salva al mondo detto questo non preoccupatevi perché ci vediamo sempre domani con un nuovissimo video bella bella ciao